che poi ci porta a commettere degli errori. La colazione, insomma, uno dei classici è il cappuccino e il cornetto, però insomma ci dicono spesso che il cornetto ingrassa troppo. Ma vi diceva poco fa, ne parlavo così perché è una delle mie debolezze, ma vi diceva il dottor Reale, ma guardi che esistono anche dei cornetti come i nostri, per esempio, si possono mangiare tranquillamente. Tranquillamente. Infatti, riagganciandomi al discorso della colazione, non solo, dei pasti durante l'arco della giornata che devono essere sì frequenti e comunque dare quella sazietà necessaria affinché il soggetto arrivi poi alla sera a non avere proprio quell'appetito impeduoso che molte volte dà problemi anche poi a livello notturno, di gestione, eccetera. Tra l'altro, certo, può far dormire male, no? Certo, infatti. Come vi dicevo, le nostre linee, sono quattro, ora darò anche delle indicazioni in tal senso, e prevedono, o quantomeno contengono, tutti quegli alimenti che fanno parte delle abitudini alimentari che fanno parte in tutto l'arco della giornata. Quindi si parte dal cornetto che può essere tranquillamente consumato, come il classico cornetto del bar per fare la colazione, alle fette biscottate, ai biscotti per poter concedersi lo spuntino di metà mattina. E via tutto quello che occorre durante la giornata. Siccome sto per chiudere, però lei ci ha incuriosito, ci ha detto abbiamo quattro linee. Quali sono queste quattro linee? Le quattro linee sono, intanto il brand è meglio per te, suddiviso in linea salute, linea sport, forma e benessere. La differenza molto sinteticamente. La linea salute è una linea di prodotti che hanno una particolare indicazione per coloro che hanno delle esigenze alimentari specifiche, soggetti che devono mantenere un'alimentazione molto bassa in termini di zuccheri e di colesterolo, diciamo così in tre parole. La linea sport è una linea studiata ad hoc per gli sportivi, in quanto oltre a controllare le calorie, sono arricchite con delle proteine vegetali, dei grassi vegetali che sono molto utili per gli sport, diciamo di resistenza. Quindi un'alimentazione specifica per chi ha queste esigenze. La linea forma per chi ha la necessità di controllare il peso, quindi la classica dieta, diciamo così, quella come la tendevamo una volta. Chi vuole perdere peso. La linea benessere è la linea che permette a chi ha raggiunto i suoi obiettivi di potersi concedere anche qualche sfizio, il cioccolato, il biscottino da tè con il cioccolato, eccetera, senza rinunciare alla forma che ha ormai ritenuto. E appunto al proprio benessere. Perché come dicevamo, anche il gusto ha la sua importanza. Saluto e ringrazio i nostri ospiti per questa interessante conversazione, vi ricca di suggerimenti, teneteli a mente, mi raccomando voi che ci avete seguito. Grazie, un saluto. Ci fermiamo adesso. Pubblicità, ci vediamo tra poco, parliamo di musica, teatro e danza sul mare della nostra regione. A tra poco.